Vinitaly 2010, la grande kermes del vino e qua incontriamo Tonino Verro, un grande ristoratore di Neive. Ma cosa ci fa un ristoratore di Neive al Vinitaly? Rappresento anche l'azienda agricola di mia moglie, l'azienda agricola si chiama La Contea, porta il nome anche del ristorante e qui rappresento mia moglie che lei è a casa, negli uffici, cura la contabilità, cura tutta la parte amministrativa e mantiene in maniera molto molto buona le pubbliche relazioni con i suoi collaboratori. Qual è il vino che lei ama di più di quelli che produce? Io li amo tutti perché sono fatti con tanto cuore e tanta voglia di far bene e non facciamo distinzioni, però abbiamo tutti un qualche cosa per un qualche cosa, questo qualche cosa è il Nebbiolo, il Nebbiolo che è il papà dei grandi vini. Grazie a tutti.